5, 4, 3, 2, 1, vai! 76 sinistra ritarda, tornante destro per accenno sinistro, per al muretto, tornante sinistro. E, destra 2, gira, chiude al rail, 50, al rail sinistra 5, tieni, per destra 4, tieni, per sinistra 4, per ancora sinistra 4, 50, vedi, tornante sinistro, 50, meglio le gomme? E, insomma, destra 3, per ancora, destra 3, gira, per sinistra 4, a vista, e alla casa in cantiere, destra 6, diventa 5, poi vai a vista fino al blu, attenzione, diventa sinistra 2, su ponte, 200. Al muro di sassi, sinistra 3, tieni, 100, al rail attenzione, destra 3, gira, subito molta attenzione, diventa tornante destro. Per sinistra 3, meno, 30, sinistra 4, in due tempi. Sporca quella, eh. Ok. E alla chiesa, destra 2, 30, destra 3, per sinistra 4, in due tempi, subito al palo, destra 2. Eh, cazzo. Ascoltami, per sinistra 5, subito, tornantone sinistro, tieni, 200, alla sieppe rossa, destra 3, occhio interno. Per sinistra 5, eh, alla casa grigia, destra 4, tieni, e vai a vista, al palo giallo, sinistra 5, per tornantone destro. Per, accenno sinistro, 20, sinistra 6, 30, sinistra 5, 50, al cancello, destra 3, 3, 3, per accenno sinistro, 100, alla rete verde, sinistra 6, e a rosa tornante sinistro, no, leva. 6 questa. Sì, tornante sinistro, rosa. 50, al rail, destra 6, per rail, sinistra 6, 50, al palo giallo, destra 5, meno. Per sinistra 6, 50, sinistra 4, taglia molto che sarà sporco, 200, dentro, dentro, andiamo, bravissimo, ai sassi, sinistra 6, 200. 100, al rail, prepara, tornante destro. Per sinistra 6, bravo, 100, ai sassi, destra 4, meno, tieni. Per molta attenzione, sinistra 6, diventa tornante sinistro, no, leva. Per destra 5, e sinistra 6, 100. Sinistra 4, e al rail, giallo, è un tornantone destro. 30, destra 5, e a vista alla muraglia, destra 6, tieni. 50, sinistra 6, 50, alla roccia, destra 4, più, 4, più, 200 a vista, via. Sinistra 6, per destra 5, e sinistra 4, vai. E al palo sinistra 6, tieni. 6, tieni questa, 70. Sinistra 4, 4, 70 al muro, destra 6. 100, al bidone, destra 4, meno, 4, meno. Questa minchia che tiene. Casa gialla, sinistra 3. Per destra 5, e alla casa gialla, sinistra 3, meno, gira. Casa gialla, 3, meno, gira, 100. Destra 5, diventa 4, diventa 4, 70. Accenno destro per sinistra 3, 3, 200. Hai cartello giallo, secondo, nel fondo, destra 6, 100. Hai cancello, destra 4, gira, 4 gira questa. Bello, stop. Amministra, salta, occhio, destra 4, scende. Bravo, 70, sinistra 6, molta attenzione alle zebre. Destra 2, gira, 2, gira, bravo. Sinistra 4, alle zebre, destra 4 più, 4 più questa. Per sinistra 5, 100. Al muro, destra 4, lunga, lunga. 4, lunga, lunga. Per sinistra 4, tieni. 50, al muretto, sinistra 3, gira. Cristian, 3, gira. Poi vedi le zebre, 70. Bravo. Dopo la casa, destra 4, 30. Al muretto, sinistra 4, gira. Per destra 5. Destra 5 questa. Ceno sinistro è la legna. Destra 5 più. E molta attenzione alle zebre. Sinistra 4 più, tieni. 4 più, tieni. Stai a destra. Ok. E per destra 5. Sinistra 5 è lunga, lunga questa. Vai, vai, vai. Al reile, sinistra 5 ancora. E alla zebra, sinistra 4. 4 per il triangolo. Sinistra 5 più. 5 più, 150. Vedi? Alle zebre, destra 2. Mi raccomando, questo. Per destra 5, vedi? 50. Molta attenzione al muro. Sinistra 3, 3, 3, 3. In destra 4. 100. Al blu, al blu. Bravo. Destra 4 meno, al blu. Destra 4 meno, gira. E al paletto, sinistra 4. Sinistra 4. 200 a vista. Alla zebra. Attenzione, torrentino sinistro. Leva, imperiale. Mi raccomando. 30. Destra 5, pieno. 200. Al cancello. Destra 3. 3 questa. Trento allo specchio. Sinistra 4 meno, vai. A vista. Fino alla zebra, un tornante destro. Fallo bene che è l'ultimo. Vai, 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 vai. Fini, fina prova. Lascia. Bravo. Bravo.